Completati e collaudati i lavori della nuova via Palinuro si apre una stagione nuova per l'intera zona nord della città e per la bellissima borgata di Mondello. Una nuova mobilità, una nuova attrattività per turisti e per residenti, uno straordinario contributo alla ripresa economica di Mondello e dell'intera città. Credo che siamo ancora una volta a confermare che la visione di mobilità sostenibile non soltanto è cosa giusta e buona ma è anche conveniente.